Oggi Uomini e Donne, Paolo e Angela in studio, Sara piange con Nicolò Fabri, Nilufer arrabbiata con Lorenzo questo lunedì Uomini e Donne manda in onda una nuova puntata del Trono Classico. Si parte da uno speciale video, Maria De Filippi trasmette infatti il filmato riassuntivo della scelta di Paolo ed Angela. I due stanno ancora insieme ed oggi entrano in studio per parlare della loro storia d'amore. Le cose vanno benissimo e entrambi si mostrano al pubblico in piena serenità e anche molto felici insieme. Durante tutto il corso della registrazione non si sono mai allontanati e i loro ripetuti baci l'hanno fatta da padroni. Spassa poi alle due tronista, Nilufer e Sara. Entrano i corteggiatori delle due e si passa subito all'esterna della affifella con Lorenzo. Riccardi è stato chiamato dalla tronista per poter parlare definitivamente di ciò che c'è tra loro. I due sono solo in studio e lei ammette di aver capito che tra loro c'è qualcosa, anche se non sa darle un nome. La ragazza chiede al corteggiatore di continuare a conoscerla e lui accetta commuovendosi. L'esterna si conclude, ma il giovane ha gli occhi lucidi e chiede alla redazione di poterla raggiungere per abbracciarla ancora una volta. Tornati in studio, Nilufer si mostra molto arrabbiata. La ha dati e delusa e crede di essere stata. La ragazza chiede al corteggiatore di continuare a conoscerla.